Durante l'intervento che ho appena ascoltato mi hanno colpito due parole chiave del suo intervento, attrattività e proiezione del sistema universitario e AFAM all'estero. Ce ne vuole parlare? Molto volentieri. Queste sono due parole chiave, attrattività, attrazione e proiezione, che pervadono tutte le misure che il Ministero dell'Università della Ricerca sta mettendo in campo, ha messo in campo attraverso i fondi del PNRR. Attrattività, grandi infrastrutture di ricerca, grandi partenariati, grandi ecosistemi, investimenti consistenti in dottorati di ricerca, ma anche misure del tutto nuove, le infrastrutture tecnologiche di innovazione, qualcosa che qualifica molto il nostro sistema e anche molto le misure a favore dei giovani ricercatori per le chiamate dirette di chi ha vinto il Marie Curie, di chi ha vinto l'IRC, ma anche prossimamente di chi è nelle graduatorie utili per l'IRC e anche Marie Curie. E poi proiezione, proiezione abbiamo appena parlato, proiezione delle università attraverso la misura TNE, misura anche qui molto innovativa, su cui abbiamo lavorato molto, ma ancora di più la misura per l'internazionalizzazione delle istituzioni AFAM. Inizialmente con 30 milioni, adesso 87 milioni, dati garantiti a 116 partner. Quindi una nuova attenzione per le AFAM con questa ventata di innovazione e di finanziamenti anche. Ritiene che questo possa migliorare anche l'immagine del nostro sistema universitario all'estero? Certamente sì, è tutto fatto con questa finalità. Noi crediamo molto nelle istituzioni AFAM, ma crediamo molto nella cultura italiana, crediamo molto nella necessità di assistere le istituzioni AFAM, nel loro attrarre i migliori talenti internazionali, ma crediamo molto anche nella necessità di assistere le istituzioni AFAM nella loro proiezione internazionale, quindi nella creazione di reti internazionali, nello stabilire programmi di mobilità di studenti, ma anche di docenti delle istituzioni. Ritiene sia più importante attrarre o andare verso l'esterno? Sono due componenti essenziali per un paese moderno come il nostro. Bisogna investire nel cercare di consolidare il nostro sistema perché sia sempre al centro delle dinamiche, se non altro europee e globali.